di società. La prima notizia a rilievo di società riguarda la pubblicazione di un bando riferito all'utenza della regione Abruzzo, fatta sia di studenti, di genitori, di docenti, di enti locali, ed è un bando denominabile Piano Triennale Regionale di Edilizia Scolastica 2018-2020, articolo 10 del DL 12 settembre 2013, numero 104. Sostanzialmente è la legge che riferisce delle opportunità finanziarie per quanto riguarda l'edilizia scolastica. L'edilizia scolastica concernente sia il nuovo costruito, sia il potenziamento e l'efficientamento, sia il risanamento sul piano della resistenza statica e sismica. È un bando che avrà una copertura finanziaria di almeno 50 milioni di euro a valere sul finanza nazionale, quindi non gravante sul bilancio di regione Abruzzo, ed è riferito ai comuni, i comuni che potranno rendere oggetto di richiesta con progettazione preliminare e studi di fattibilità sia le riparazioni, sia l'efficientamento, sia il potenziamento, sia la resistenza sismica e statica. Gli elementi di favore, di supporto, di merito sono la qualità delle progettazioni, la densità della popolazione scolastica, la demografia scolastica e naturalmente anche le condizioni di bisogno sul piano degli interventi di sistemazione. Con questo bando, che andrà a segno, calcolate attorno a 50-60 milioni di euro, perché è un bando che ripartisce a livello nazionale le risorse su base delle singole regioni, noi arriviamo oltre 350 milioni di euro per quanto riguarda le risorse destinate ai comuni abruzzesi. Ci dovete aiutare, io chiederei a tutti i presenti, di aiutarci in quella che si chiama un'attività informativa di servizio. Cioè fate sapere ai comuni che questa è la loro occasione, come lo è stato l'anno passato, che hanno fatto gol tanti comuni, sono stati tutti finanziati, tutti quelli che hanno fatto domanda. Però i comuni devono fare domanda, per cui fate in modo da fare un giornalismo di servizio. Poi le altre esigenze che avete riservatele nei prossimi giorni. mi permetterei, dopo aver detto questo, di farvi rendere noto, a parte da del vecchio, voglio diventare lolliano anch'io, voglio condividere. C'è un'altra informativa da dare riguardante l'assegnazione dei fondi per il superamento dell'attuale condizione, tra virgolette, di emissioni in atmosfera di nitride carbonica, per quanto riguarda sia il patrimonio edile pubblico dei comuni, sia il patrimonio privato. C'è una graduatoria che assegna la media di 100.000 euro a comune che poi vi dirà del vecchio. Io adesso mi sollevo, faccio quell'attività normale che il sabato vorrei condividere nella mia doppia natura di Presidente della Giunta e di Senatore. Quando poi del vecchio finisce di dire questo, riferito a questo bando, devo dire questo secondo bando che ha premiato, mi pare, sono 70 comuni. Per adesso diamo notizia di una prima metà di comuni. Su questo bando ci hanno lavorato Gerardini, che è il più bravo d'Italia, e anche Mazzocca nella delega che ha, ma prevalentemente è un lavoro della dimensione tecnica dei comuni e dell'informativa politica. Lui darà adesso questa notizia. Io adesso mi sollevo, sono molto contento che abbiamo diramato l'avviso riguardante l'edilizia scolastica perché voi sapete, muovendoci adesso, saremo nella condizione di conoscere le posizioni di merito, di idoneità, di valore ad opera dei comuni calcolate per fine maggio-metà giugno. In maniera tale che poi si possa procedere nel seguito delle attività che sono le scelte dei contraenti. Se ci sono domande, riferite al bando dell'edilizia scolastica sono molto lieto di soddisfarvele. Se ci aiutate a farlo sapere, 40 giorni a partire da lunedì. E l'ammontare, i comuni possono, sono 305, non sono tutti e 305 nella stessa condizione, sono 60 milioni di euro. Non dico il numero esatto perché il numero esatto fa riferimento al numero delle ripartizioni delle regioni italiane. Però la spesa storica è questa. Ci sono domande? Grazie. Allora, per quanto riguarda invece il secondo elemento della conferenza stampa, riguarda il programma Porta ESR 2014-2020. Nel 2017 per l'asse 4, promozione di economia per la riduzione delle emissioni di carbonio è stato fatto un avviso pubblico nel 2017 per una disponibilità economica riguardante l'avviso pubblico gli enti locali, gli enti pubblici. Poi ce n'è anche un altro di cui parleremo nella prossima conferenza stampa, appena avremo dati più certi, che riguarda invece i soggetti privati. Per quanto riguarda i soggetti pubblici, l'avviso pubblico è terminato, ci sono state la presentazione delle domande, poi l'ha distribuito l'intero elenco. L'importo previsto è di 7 milioni di euro. Attualmente sono già disponibili 3 milioni 6, gli altri 3 milioni e 4 saranno disponibili nell'arco di qualche settimana con una variazione di bilancio. Intanto cominciamo a sottoscrivere le convenzioni per i 3 milioni e 600 mila euro che riguardano 37 comuni. Uno è graduatoria che è stata predisposta e redatta dall'ufficio competente. Di tutte le domande presentate, soltanto 4 hanno avuto valutazione 0, nel senso che non sono rientrati. Ogni comune avrà all'incirca 100 mila euro. A che cosa sono destinate? al miglioramento dei sistemi di produzione di energia, sia energia elettrica sia energia di calore. Quindi tutte quelle forme di innovazione dei sistemi di produzione di energia che producono una riduzione della produzione di carbonio sono stati finanziati da parte della regione come il programma post-FES 2014-2020. L'elenco lo distribuiremo, ma comunque i comuni inutili che li leggiamo noi. Ve ne mando un altro, un po' più dettagliato, in cui sono evidenziati i 37 che verranno finanziati con i primi 3 milioni e 6, poi ci sarà un altro gruppo finanziato con l'ulteriore 3 milioni e 4 e poi c'è un gruppo che è escluso per carenza di fondi. In quel caso vedremo nelle fasi successive di recuperare anche risorse finanziarie per poter completare interamente la graduatoria che è stata redatta nell'auspicio di tenere fuori soltanto chi non è stato escluso dalla graduatoria, ma di finanziare tutti e tanti i comuni interessati. Ma per capire, questi evidenziati in verde sono quelli finanziati? No, allora quelli finanziati in verde sono tutti quelli finanziati dei 7 milioni di euro nella disponibilità finanziaria del programma, però attualmente abbiamo risorse pronte per 3 milioni e 6. I 3 milioni e 6 si fermano al comune di Manopello, poi come ho detto prima tramite Fabrizio vi faccio avere questo file in maniera più dettagliata, ci sono colori diversi che evidenziano in maniera puntuale. Con gli altri 3 milioni e 4 adesso dovrei vedere sul telefonino se arriva un altro numero di comuni e poi rimangono fuori perché l'intero programma per finanziare tutti i comuni che sono stati accorti sono 9 milioni di euro, quindi dobbiamo reperire ulteriori 2 milioni di euro. Dobbiamo verificare la misura 4.12 per quanto riguarda i soggetti privati per vedere se viene dove la disponibilità è di 9 milioni, se sono utilizzati tutti provvederemo diversamente, se invece non vengono utilizzati tutti quelle risorse verranno traslate sulla misura 4.1 che è questa qui. C'è un esempio del tipo di intervento che il Comune può fare con questi fondi? Termosifoni? Qualsiasi intervento per esempio sulle caldaie, chi ha le caldaie di vecchia generazione che producono un certo quantitativo di carbonio, ci sono dei sistemi particolari che vengono installati che riducono questa emissione o l'energia elettrica, la riduzione attraverso apparati nuovi e altre fonte di questo genere o anche attraverso interventi nelle strutture stesse degli immobili proprio per ridurre la dispersione dell'energia interna che produce anche l'energia rinnovabile? Assolutamente sì, tutte. Sono le misure proprio finalizzate alla riduzione di carbonio dalle fonti che le producono, per la maggior parte sono fonti energetiche. Neanche pannelli? Esattamente. I contributi massimo sono 100 mila euro, come vedete a fianco ad ognuno c'è il relativo importo, credo che non ci siano altre cose da aggiungere. Se volete poi rimandiamo anche l'avviso che a suo tempo fu fatto nel 2017, da cui potete anche prendere tutto il necessario che riguarda questa misura. Sono le misure innovative sostenute dall'Unione Europea che insomma credo che abbiano un valore significativo nelle nostre comunali. da bene? Grazie!